Dopo ben 5 anni si torna a respirare area di Serie A al Pala del Mauro. Nel primo pomeriggio di venerdì 26 luglio, attraverso i propri canali social, l'Avellino Basket ha lanciato la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Foto di Alexa Nikolic, protagonista indiscusso della cavalcata dello scorso anno, con lo slogan Timmagini, ispirato alla celebre canzone di Vasco Rossi del 1985, tratta dall'album Cosa succede in città. Quello che succede ad Avellino è sicuramente qualcosa di positivo. Campagna acquisti che sta entusiasmando i tifosi bianco-verdi e tanta voglia di tornare a vedere pian piano il Pala del Mauro, protagonista della palla spicchi con tante sfide di livello contro compagini che hanno fatto la storia di questo sport in Italia. Attraverso un comunicato ufficiale la società sportiva Avellino Basket ha reso noto che dal giorno 26 luglio ha preso il via la campagna abbonamenti per la stagione 2024-2025, che vedrà impegnata la compagine irpina nel torneo di Serie A2 Old Wild West. Il club ha deciso di dividere la vendita delle tessere in due fasi. La prima avrà inizio venerdì 26 luglio e si concluderà il giorno 6 settembre e prevede un prezzo agevolato per i tifosi irpini. La seconda si svolgerà dal 9 al 28 settembre a prezzo pieno. Nella fase 1 la curva avrà il costo di 50,65 euro nella fase 2 e 40 per entrambe le fasi per gli under 25, promozione che vuole avvicinare i più giovani alla squadra. La tribuna superiore nella fase 1 costerà 120 euro, mentre 150 per la fase 2. Logicamente è più alto il prezzo in tribuna inferiore con il costo di 190 euro nella fase 1 e 230 nella fase 2. Prezzo unico per la tribuna VIP che in entrambe le fasi avrà un costo di 500 euro. Le tessere potranno essere acquistate online sul sito www.godue.it o presso tutti i punti vendita Godue autorizzati consultabili sul sito del rivenditore. Sarà possibile acquistare le tessere anche presso la sede del club in via Salvatore Moccia 104 da lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 19.